Benvenuti da Fabio Garesse e Beppe Bergomi, come potete vedere si giocherà sotto una pioggia a battenza. Cristiano Ronaldo, Foggia al compagno. Benvenuti da Fabio Gares e Beppe Bergomi, come potete vedere si giocherà sotto una pioggia a battenza. Yarram. Trova il compagno. Attenzione solo! Ed il pallone entra e gol! Un gol calcolato al millimetro, che bello ed è impossibile da prendere. Milner, Agbola Hor, Young. Ha spazio davanti a Sì. Occasione in vista! Firmano la manobra avversaria. Milner, Walnock, Agbola Hor, Karun. Attenzione, gol! Manifesta tutta la sua gioia. Sì, sta mandando un bacio a tutti. La piazzata con precisione assoluta. Con la palla può fare davvero tutto quello che vuole. Cristiano Ronaldo, vince in mano. Sergio Ramos. Tiene il proprio giù, la palla colpisce ed è in rete! Risulta come se avesse segnato il gol della vittoria, però sono ancora in svantaggio. Sì, in effetti per ora il suo gol non cambia nulla. Hanno risposto immediatamente a gol degli avversari. Cacchè. I guai. Cristiano Ronaldo, ma c'è l'era. Arriva un compagno in supporto. Bama al portiere. E finisce così, il primo tempo. Sono in vantaggio ma gli avversari non vogliono saperne rimollare. Entrame le squadre stanno giocando con il calcio. E' un fatto divertente, spregiudicato. Può succedere ancora più in dubbio. Siamo solo a metà gara, c'è ancora tutta la ripresa da giocare. Poglaterale a Serie A, Doreal Madrid. Paraglava a Vinzema. E' supera la marcatura, non riesce a bloccare. Calcio in porta. Ci riprova. Prova ad andare a cacare. Si è smarcato un compagno. Yano che fa. Palla ancora tra i suoi piedi. Calcio. Si muove. Occasione. E sbaglia la conclusione. Downing. Scarica sul compagno. Occasione. Fallo. Si ripartirà con un calcio di punizione. Che gol! Spremio l'Ede! Toro direttamente da calcio di punizione. Si hanno saputo sfruttare questa occasione sul calcio da fermo. Il portiere qui non ha colpe. Sergio Ramos. Senza sosta oggi. Stilian Petrov. Young. Parte in profondità. Insuperabile qui. Conquista il pallone. Serbe il compagno. Respinge un tiro indirizzato in porta. E il tiro finisce a lato. Videra buona. Passaggio bloccato. Palla a piede cacare. Benzema. Cristiano Ronaldo. Ed è gol! Falla in rete! Due reti messi a segno finora. Si sta dimostrando una vera sfida nel fianco della difesa avversaria. La giovanetta non impedisce. Sanno. Agbola Hall. Done. Cerca la rete! E la balla finisce. Pira la gamba di fronte. Sergio Ramos. Xavi Roy. Gamba di fronte. Parte in tiro! Sono di nuovo in partita. La sua magnifica partita è impreziosita da questa trifletta. Oggi gli attacchi delle due squadre sono davvero in una forma smagliante. Appoggia al compagno. Si fa sotto. Corner allo scadere. Probabile che sia. Intuisce a nulla il pericolo. Bellissimo il passaggio. E ferma all'ultimo l'azione avversaria. Fuori gioco. L'occasione sfumata. Il quarto uomo esibisce il caperone. L'ultimo luto che indica più o meno di lui. Splendida l'annorazione. Cross che non impensierisce la difesa. Si prosegue. Fallo. Si ripartirà con una posizione. E questo appuntamento davvero non ci voleva. Sì, è un giocatore troppo importante per il loro attacco. Che gol allo scadere! Ed esplode in una risultanza incontenibile dopo questa gol. Ha tutte le ragioni per essere contento. Per ora è lui a fare la differenza in questa partita. Non potevano scendere il momento migliore per andare in vantaggio. Sì, a pochi minuti dalle fine gli avversari non hanno grandi possibilità di recuperare. Oggi stiamo vedendo davvero molti gol. Un compagno si smarca e detta passaggio. Serve benissimo il compagno. L'arbitro dice di continuare. Esce bene il portiere. È andato deciso sulla palla. Calce di punizione. E finisce così. Triplice fischio. È finita! È finita! Abbiamo assistito qua. Questo è il portone davvero rossiore. Sì, è un giocatore troppo importante per il loro attacco. Che tollo allo scadere! Ed esplode in una risultanza incontenibile dopo questa gol. Ha tutte le ragioni per essere contento. Per ora è lui a fare la differenza in questa partita. Non potevano scendere il momento migliore per andare in vantaggio. Sì, a pochi minuti dalle fine. Ma devo dire che possono prendersela soltanto con loro stessi. Beppe Bergomi ed io vi ringraziamo per aver seguito questo match insieme a noi. Vi diamo appuntamento alla prossima.